Ragazzi, oggi è iniziata una collaborazione fantastica tra Fortnite e Jordan e sono uscite delle skin fantastiche, come potete vedere io già ho lei, cioè ma vogliamo parlarne di quanto sia figa questa skin. Quindi ragazzi vi faccio vedere lo shop, perché con 1800 di Buck si può avere sia la ragazza che anche lui, che tutte e due le skin sono fantastiche ma lei è qualcosa di strepitoso, in più ci sono vari modelli, vari stili, ragazzi pazzesco. Io ovviamente ragazzi come sempre vi ricordo che avete la possibilità di supportarmi tramite lo shop di Fortnite, se ovviamente vi fa piacere, andando appunto nell'item shop e semplicemente andando ad inserire il mio codice che è Croatomis, come il mio nome che vedete qui su YouTube. Quindi ovviamente ragazzi ringrazio tutti coloro come sempre che decideranno di supportarmi, perché siete davvero in tanti e presto ragazzi saranno tante novità, quindi grazie mille a tutti coloro che mi supporteranno. Alla prossima ragazzi. Ah ragazzoli, quasi me ne dimenticavo. Non dimenticate di seguirmi sul mio profilo Instagram, fidatevi, non ve ne pentirete. Link in descrizione. Ah! 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 Uno! Ah! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Vai addirittura Questa si è fatta balla da solo Ma porca troia Sei serio fra Vai addirittura Vai addirittura Vai addirittura Vai addirittura Headshot Baby Vai addirittura Vai addirittura Vai addirittura G brother Vai addirittura No 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 No, non ho fatto il campfire, porca troia Probabilmente ora tutti da me vengono No, non ho fatto il campfire 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 No, non sono morta mai una volta Mai Non so mai morire No, non ho fatto il campfire La gara è bellissima In realtà è bella, tipo, ti alleni quegli HS No, non ho fatto il campfire